Grazie Io ringrazio anzitutto gli organizzatori di questo convegno per l'invito ringrazio il dottore Fabio Picciolini, presidente del Consumer Forum e il professore Papanti che prima ha rievocato i ricordi delle vicende che ci degano con riguardo alla nostra gioia inizia Il tema che mi è stato assegnato è funzione ed effetti dell'azione in vittoria Iniziamo dalla funzione e cercherò poi di ripercorrere un po' l'evoluzione di questa azione che si è andata formata nel tempo ed è tuttora in continua trasformazione La funzione dell'azione è apprestare una tutela preventiva collettiva alla categoria dei consumatori Così come l'azione in vittoria tradizionale già presente in ipotesi specifiche nel codice civile l'azione in vittoria tutela dei consumatori è uno strumento di tutela preventiva Dunque è un'azione che si volge al futuro per impedire un illecito Per illecito deve intendersi un'attività contraiusse in contrasto con il diritto oggettivo che prevede norme nel caso esame a tutela dei consumatori Dunque a differenza del rimedio risarcitorio che si volge al passato per risarcire un danno che già si è verificato L'azione in vittoria invece è volta a prevenire, ad impedire un'attività illecita, lesiva degli interessi protetti dei consumatori A tutela dei consumatori per la prima volta in Italia è stato predisposto uno strumento di tutela collettiva Dunque l'azione in vittoria tradizionale che nel codice civile è presente come azione individuale Diviene uno strumento di tutela collettiva, cioè che si rivolge a tutelare gli interessi collettivi del futuro E bisogna dire che l'azione in vittoria ha una vera e propria vocazione collettiva Perché se si inferisce un'attività illecita imprenditoriale e si vieta per il futuro I vantaggi di tutto ciò andranno a favore di tutti i soggetti che entreranno in contratto con l'imprenditore Che saranno potenziali controparti di quell'imprenditore E addirittura qui bisogna dire che gli effetti dell'azione da un punto di vista pratico Andranno anche a vantaggio di chi non è consumatore persona fisica Facciamo qualche esempio Se nel contratto dei modelli con l'imprenditore sono presenti clausole vestatorie E l'azione in vittoria è volta a colpire quelle clausole vestatorie Che verranno dunque per ordine del giudice cancellate sui formulari I vantaggi andranno a favore di tutti i consumatori che concluderanno contratti successivamente con quell'imprenditore Ma se si tratta di soggetti che non sono consumatori Cioè persone fisiche che agiscono al di fuori dall'attività imprenditoriale eventualmente svolta I vantaggi ci saranno lo stesso perché un modello contrattuale non conterrà più le clausole vestatorie Facendo un altro esempio Se l'imprenditore immette nel mercato prodotti difettosi, dall'ossi della salute E un'azione in vittoria impone all'imprenditore di ritirare quel bene dal mercato Di non metterli più in circolazione Il vantaggio è a favore di che andranno Andranno a favore di tutti i consumatori Dunque vedete che è anche a favore di chi non è consumatore nel senso proprio del termine Secondo il codice del consumo Dunque vedete che c'è proprio una possibilità dell'azione inibitoria Di avere effetti a vantaggio di tutti i potenziali soggetti che entreranno in contatto con l'imprenditore E questa vocazione collettiva pura direi è proprio solo ed esclusivamente dell'azione inibitoria E non di altri strumenti di tutela Che non posso dire collettivi ma super individuali semmai Come l'azione di classe Perché l'azione di classe invece necessariamente volta al passato E colpisce l'imprenditore Imponendo di risarcire danni che si sono già verificati in capo a soggetti determinati Dunque qui non abbiamo la protezione di un interesse collettivo che riguarda tutti i consumatori Ma abbiamo semmai protezione di interessi di più soggetti che si trovano nella medesima situazione Dunque una tutela di tipo super individuale ma non collettivo Puro come invece abbiamo l'azione inibitoria Altro carattere proprio dell'azione inibitoria a tutela dei consumatori E' quello della generalità Perché mentre l'azione inibitoria individuale nel codice civile E' prevista solo ed esclusivamente in ipotesi tipiche Cioè in ipotesi espressamente previste dalla legge Invece l'azione inibitoria a tutela dei consumatori Si applica in tutti i casi in cui ci sia una violazione Degli interessi giuridicamente protetti dei consumatori Dunque ha un carattere generale E non ne è tipico Altra caratteristica proprio dell'azione inibitoria a tutela dei consumatori E' quello di essere uno strumento d'utile Infatti si possono prevedere anche misure ulteriori Idonee a correggere o eliminare per il futuro Le conseguenze per i giudizi e ocoli delle violazioni accertate Questo consente di predisporre una tutela specifica Calata nel caso concreto E che realizzi proprio in maniera diretta e immediata L'interesse che si vuole proteggere Dunque una tutela specifica Non una tutela che offre un succedaneo Come ad esempio il risarcimento del danno Ma una tutela che protegge direttamente Specificamente l'interesse Proprio perché si dieta e dunque si blocca L'attività illecita adesiva di quell'interesse Per tutte queste ragioni L'inibitoria ha avuto un forte impulso Anche e soprattutto dall'Unione Europea Perché è stata introdotta nel nostro ordinamento Per la prima volta L'azione inibitoria collettiva a tutela dei consumatori All'articolo 1469 bis seguenti del codice civile E quindi con la novella del 1996 Che è stata annata in seguito a una direttiva comunitaria Alla direttiva del 1993 Sulle clausole abusive e contratti con i consumatori Nella sua prima formulazione L'azione inibitoria era appena abbozzata Solo nel tempo è andata Specificandosi E ha avuto una individuazione Una definizione maggiore E ripercorrendo nel tempo Le varie tappe Si fa riferimento alla legge Sui diritti dei consumatori e degli utenti del 1998 Che già prevede Quali associazioni possono farsi portatrici Nell'interesse collettivo Nell'interesse collettivi dei consumatori Perché trattandosi di un'azione collettiva La legittimazione non può assolutamente essere del singolo Ma deve essere necessariamente Di un'associazione rappresentativa Degli interessi della categoria E con la legge del 1998 Si sono specificati requisiti Che queste associazioni devono avere E solo le associazioni che hanno questi requisiti E che sono riconosciute E che sono inserite nell'elenco Presso il Ministero del Gruppo Economico Solo queste possono agire A tutela degli interessi collettivi dei consumatori Dunque ecco l'azione Altri passi Nella conformazione dell'azione La previsione Di uno strumento Che assicura l'efficacia del rimedio Cioè si è previsto Sempre con un procedimento successivo Che si inserisce nella legge sui diritti dei consumatori Che se l'imprenditore Non osserva il comando di invidatorio Si può chiedere al giudice Una sanzione Che è una sanzione civile Sul tipo della strength francese Per cui per ogni giorno di ritardo Nell'esecuzione del provvedimento In invidatorio L'imprenditore sarà costretto A pagare una somma di denaro Che è già stabilita Tra un minimo e un massimo E tra questo minimo e un massimo E poi il pubblico deciderà Il ragione della gravità del fatto Successivamente l'azione inibitoria Rifluisce nel codice del consumo Quando appunto il codice del consumo E' stato emanato nel 2005 E risulta adesso La disciplina dell'azione inibitoria Agli articoli 139 e 140 Del codice del consumo Per le clausole abusive Diciamo c'è una doppia disciplina Questo forse ha avuto un difetto di coordinamento Nel codice del consumo Una doppia disciplina con un doppio rinvio Sia nell'articolo 37 Sia nell'articolo 140 Del codice del consumo Ma il percorso dell'azione inibitoria Non si arresta con il codice del consumo Perché poi abbiamo sempre ulteriori interventi Dell'Unione Europea Che controlla Fa un'azione di monitoraggio Della efficacia di questo strumento E dunque l'Unione Europea È intervenuta E interviene continuamente Per rendere più efficace E efficiente Questo strumento Inibitoria Perché nella Relazione del 2008 Si era già rilevato Da parte dell'Unione Europea Che lo strumento inibitorio Si aveva dato dei buoni frutti Nei vari ordinamenti nazionali In realtà Aveva fatto acqua completamente Sul piano dell'applicazione Trasfrontaliera del rimedio Cioè L'applicazione De l'azione inibitoria Tra stati diversi Bisogna dire che poi L'azione inibitoria Rifluisce La direttiva originaria Si provvedimenti Inibitori Cioè quella Del 1998 Numero 27 Rifluisce In un'altra direttiva Più recente La numero 22 Del 2009 E in questa Nuova direttiva Si prevede Che Ogni tre anni La confezione Dovrà Redigere Una relazione Sull'applicazione Della direttiva 2009 Numero 25 E dunque C'è appunto Tutta questa Attività Di Potenziamento Di questo Strumento Di tutela Collettiva E nella Prima relazione Della commissione Sull'applicazione Della direttiva Ultima Sui provvedimenti Inibitori Cioè quella Del 2009 Si rilevano Delle criticità Dell'azione Dunque Siamo sempre Nell'ambito Della funzione Della azione Questa funzione Della azione Si realizza È stato Uno strumento Efficace Come potrà Divenirlo Maggiormente E Queste criticità Che si vogliono Superare Sono essenzialmente Date Dai costi Elevati Della azione Vittoria Dalla durata Dei procedimenti Dalla complessità Delle procedure E tutto questo Rende Uno strumento Nel quale L'Unione Europea Ha fortemente Creduto Non Efficiente Non utile Così come Si sarebbe Sperato Però L'Unione Europea Crede ancora In questo strumento E appunto Ci sono Tutti questi Provedimenti E queste Attività Della Unione Europea Per rendere Migliore E più efficace Il rimedio E tra Questi interventi Della Unione Europea Devo Citare Anche La raccomandazione Recente Della commissione Dell'11 giugno 2013 Che riguarda I principi comuni Per i meccanismi Di ricorso collettivo Sia di natura Inibitoria Che di natura Esarcitoria Negli stati membri Per violazione Dei diritti Conferiti Da norme Dell'Unione Europea E questa raccomandazione In realtà Che è conto Della diversità Di tradizioni Giuridiche In materia Tra i diversi Stati membri E rispetta Questa diversità Di tradizioni Raccomandando Così Dei principi Per un'arbonizzazione Soft Lieve Tra i vari stati E una cosa Importante Però In questa Raccomandazione È il fatto Che si auspita Anche qui Una maggiore Celerità Proprio Con riferimento A proverimenti Inibitori E anche Si raccomanda Che vengono Introdotte Opportune Sanzioni Per garantire L'effettività Della pronuncia Inibitoria Cioè Per garantire Che Effettivamente L'imprenditore Osservi Il comando Inibitorio E dunque Non prosegua Non continui Nell'illrecito Una Notazione Importante Con riguardo A questa Raccomandazione È La Tradizione Di Informazioni Gli stati Membri Cioè Devono Istituire Secondo Questa Raccomandazione Un registro Nazionale Delle azioni Di rivolso Collettivo E questo Mi sembra Un importante Passavanti Per la Difusione E appunto La conoscenza Dell'esistenza Di questi Vari Strumenti Giudiziali Dunque Tutto 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 ciò Si evince Come L'azione Inibitoria In realtà Abbia Delle Criticità Criticità Che Dovrebbero Essere Col Tempo Superate Certo Una Criticità Dell'azione Inibitoria È Strutturale Perché Colpisce Un Imprenditore E dunque Se per esempio Parliamo di Clausole Alessatore Che rimane Comunque Il campo Di Affidazione Maggiore Dell'azione Inibitoria Collettiva Si colpisce L'azione Contenuta Nei Contratti Di Quell'imprenditore Ma la stessa Clausola Abusiva Rimarrà Nei Contratti Di Tutti Gli Alti Imprenditori Ma Questo È Un Limite Insuperabile Che È Strettamente Legato Ai Principi Del Giudicato Anche se In altri Stati Membri Anche questa Criticità Si tende A superare Nel nostro Obligamento Mi avviso Allo Stato E Passiamo Adesso A vedere Quali sono Gli effetti Dell'azione Inibitoria L'azione Inibitoria Che Proprio Questa Sua Sua Natura Di Rimedio Preventivo Collettivo In realtà Ha avuto Applicazione Anche Al di fuori Della Stretta Cerchia Consumeristica Cioè Della Protezione Del Consumatore Persona Fisica Che Agisce Per Alcuni Figli Che Non Riguardano La propria Attività Professionale O Imprenditoriale Eventualmente Scoperta E Faccio Qualche Così Qualche Esempio L'azione Inibitoria Collettiva Viene Utilizzata A Provenzione Imprenditori Che Non Necessariamente Sono Consumatori In senso Stretto Ma Possono Essere Persone Fisiche Che Riscono Per Fini Imprenditoriali Possono Essere Antidifatto Addirittura Persone Giuriniche Altra Ipotesi In cui L'azione Inibitoria Collettiva Viene Utilizzata A Tutela Di Categorie Deboli Nei Controtti Dell' Imprenditore Si Nel Decreto Legislativo Insuridati Nei Pagamenti Commerciali La Categoria Protetta È Quella Delle Piccole Medie Imprese Degli Artigiani Nell'ipotesi Appunto Che Ci Siano Clausole Gravemente Inigue Che Riguardano Le Date Dei Pagamenti E Le Conseguenze Del Ritardo Dunque L'azione Inibitoria Si Va Configurando Come Un Rimedio Collettivo A Tutto Campo Ma Quali Sono Gli Effetti Di Quest' Tanti Aspetti Questo Problema Degli Effetti Razione Lipidoria In realtà Non ha avuto Dottora Una Soluzione Diciamo Sicura Certa Né A livello Indicito Interno E Neppure A livello Europeo Il Il Problema È Legato Agli Effetti Del Giudicato Nel Nostro Ordinamento La Norma Sogli Effetti Del Giudicato L'articolo 2909 Del Codice Civile Dice Che Il Giudicato Produce Effetti Nei Confronti Delle Parti Loro Allenti O A Che Causa Ma Questa È Una Norma Che È Impostata Secondo Un Giudizio Individuale Perché Il Giudizio Civile Tradizionalmente È Un Giudizio A tutela Di diritti Oggettivi Dunque Di diritti Del singolo Non A tutela Di interessi Collettivi Se Ci Porniamo Su Una Prospettiva Collettiva E Invece Dobbiamo Dire Che Rilevano Interessi Che Fanno Capo Nella Più A Pluralità Di Soggetti Che Cioè Appartengono Alla Categoria E Che Sono Idolari Nella Medesima Situazione Giuridica Sostanziale E Allora In Questo Caso Bisogna Dire Che Gli Effetti A Mio Avviso Gli Effetti Del Giudicato Si Producono A Favore Di Tutti Coloro Che Sono Titolari Della Situazione Giuridica Sostanziale Lesa Dall'illecito Imprenditoriale Che si Colpisce Con L'azione Iniquitoria Dunque Non abbiamo Un'efficacia Indiretta Riflessa Del Giudicato Anzi Il Giudicato Produce Effetti Proprio Nei Confronti Di Tutti I Soggetti Titolari Dell'interesse Protetto E Che Viene Appunto Essere Oggetto Del Giudizio Ma Questa È Un'impostazione Che Secondo me Deriva Dalla Natura Collettiva Dell'azione Secondo me È L'unica Soluzione Che Si Può Dare Però Non c'è Una Norma Che Espressamente Dice Questo L'unica Norma Che È Contenuta Nell'articolo 140 Del Codice Del Consumo È Il Comma Nove Leggo Il Testo Della Norma Fate Salve Le Norme Sulla Dispendenza Sulla Continenza Sulla Connessione E Sulla Riunione Di Procedimenti Le Disposizioni In cui Al presente Articolo Non Preludono Il Diritto Ad Azioni Individuali Dei Consumatori Che Siano Danneggiati Dalle Medesime Violazioni Questa È Una Norma Che Non Riguarda Tanto Gli Effetti Del Giudicato Ma Riguarda I Rapporti Tra Giudizio Collettivo E Un Eventuale Giudizio Individuale Intentato Esferito Da Un Consumatore Ma Anche Questi Rapporti Non Sono Ben Definiti Dalla Norma Perché Perché la Norma Si Limita A Dire Che Non Sono Precluse Azioni Individuali E Quando È Che Queste Azioni Possono Essere Promosse Chiaramente Se L'azione Individoria Collettiva Viene Respinta L'azione L'azione Viene Respinta I Consumatori Agiscono In Via Individuale Ma Anche Se L'azione Inibitoria Viene Accolta È Possibile Che Ci Siano Azioni Individuali Perché È Possibile Che L'imprenditore Non Non Tentere Al Comando Individorio Ad Esempio Continuerà A Stipulare Contratti Che Contengono Clause Vissatorie In Quel Caso Il Consumatore Agirà In Via Individuale Per Chiedere L'animalità Della Clause Vissatoria È Possibile Anche Che Il Consumatore In Via Individuale Chieda Rimedi Alternativi O Aggiuntivi Rispetto Alla Risultato Hanno Tenuto Con Un'azione Inibitoria Che Sia Stata Accosta Dunque Tutto Ciò È Possibile Ma È Possibile Un Collegamento Tra Il Giudizio Collettivo E Il Giudizio Individuale Cioè Il Singolo Consumatore Potrà Valersi In Un Giudizio Individuale Della Pronuncia Paorevole Ottenuta In Sede Collettiva Questo La Norma Non lo dice E È Un Tema Che Non è Stato Sviluppato Neppure A Nivello D'Oropeo Ma È Un Tema Centrale Qui Però Soccorre La Priscundenza Della Porte Di Justizia D'Oropeo E C'è Una Importantissima Nerviso Pronuncia Del 2012 26 Aprile 2012 Nella Causa C 472 Barra 10 Qui Per la Prima Volta Si Instaura Un Collegamento Tra Giudizio Collettivo E Giudizio Individuale Devo Premettere Che La Dottrina Specialmente La Dottrina Processualistica È Una Stata In gran Parte Contraria A Questo Collegamento Perché Si è Detto C'è Un'assoluta Autonomia Tra Due Giudizi Che Hanno Natura Diversa Per cui Non Ci può Essere Un Rifluire Dei Risultati Raggiunti In Sede Collettiva Nel Giudizio Individuale Perché Sono I Giudizi Che Seguono Regole Diverse Che Hanno Diversa Natura E Dunque Devono Rimanere Necessariamente Separati Io Sono Stata Sempre Contraria A Queste Impostazioni E Ho Sostenuto Esattamente Il Contrario E Vedo Che Adesso Il Corte Di Giustizia Dell'Unione Europea Segue Questa Opinione Che Io Avevo Già Sostenuto Subito Nel Commentare La Norma Di cui All'articolo 1469 Sexes Che Conteneva Appunto La Disciplina Dell'azione L'Ubitoria Collettiva In materia Di Clausole Abusive Allora La Sentenza Dice Rifacendosi Da Tutta Quella Giurisprudenza Che Ha Potenziato I Poteri Del Giudice Di Rilevare L'Ufficio La Vestatorietà Delle Clausole E Avvarendosi Proprio Di Questa Definizione Del Potere Dovere Del Giudice Di Rilevare La Nullità Delle Clause Abusive Dice Che Il Giudice Tenuto A Rilevare La Nullità Anche Se La Nullità Sia Stata Accertata Con Un'azione Inibitoria Collettiva Dunque Se L'azione Inibitoria Collettiva E' Stata Accolta Il Presupposto Dell'accoglimento In materia Di Clausole Abusive E' Che La Clausola Abusiva Sia Stata Accertata Come Nulla Dall'Udice dell'Inibitoria Ora Questo Accertamento Della Nullità Della Clausola Fa Si Che Il Giudice Chiamato A pronunciarsi In un Giudizio Individuale Tentando Un Consumatore Sulla Nullità Di Quella Deve Rilevare L'Unità Chiaramente Dunque Questo Secondo me E' Un Importante Passo Dopo Alla Giurisprudenza In Assenza Di Regole Da Parte Del Registatore Cioè In Assoluta Carenza Vacuna Normalità E Chiaramente Però In Questo Collegamento Che Signale E Nel Conto Che Comunque Il Giudice Nell'ambito Del Giudizio Individuale Dovrà Tenere Conto Anche Delle Circostanze Particolari Del Caso Concreto Perché La Vestatorietà Di Una Clausola Non Va Mai Considerata In Modo Astratto Questo È Possibile Solo In Indizio Collettivo Che È Di Per Sè Astratto Ma Poi Se Riportiamo La Nullità Di Quella Clausola In Giudizio Concreto Possiamo Tenere Conto Anche Del Fatto Che Quella Clausola È Inserita In Un Contratto Dove Ci Possono Essere Altre Clausole Che Bilanciano Bilanciano Vestatorietà Ci Possono Essere Contratti Collegati Che Valgono Ad Eliminare In Quel Caso Contrere La Vestatorietà O Addirittura Circostanze Che Influiscono In Questo Sopso Però Comunque Si Deve Avvertire Dal Presupposto Che Quella Clausola In Nulla Salvo Poi A Vedere Nel Indizio Individuale Se In Caso Specifico La Vestatorietà Esclusa Da Questi Altri Fattori Che Vi Avvicano Dunque Vedete Che Il Cammino È Stato Fatto L'azione Inibitoria Ha Avuto Applicazioni Non Tante Quanto Quelle Che Ci Si Aspettava Ma Perché Non Avuto Applicazioni Secondo Me Anche Perché Nel Codice Del Consumo L'artico 940 Sono Stati Un Prodotto Degli Strumenti Alternativi Preventivi All'azione Inibitoria Che è Sostesso Un Rimedio Preventivo Perdonatemi Un po' Il Vesticio Di parole E Quali Sono Gli Strumenti Preventivi All'azione Inibitoria Ma Anzitutto L'Associazione Di Consumatori Che Vuole Intentare Un'azione Inibitoria Deve Come Condizione Di Ammissibilità Dell'azione Difidare Prima L'imprenditore L'azione Potrà essere Promossa Solo Dopo 15 giorni E Nel frattempo Si possono Iniziare Anche Dei procedimenti Conciliativi Facoltativi Su Iniziativa O Dell'Associazione O Dello Stesso Imprenditore Dunque Penso Che Molte Azioni Inibitorie Vengono Blocate Sul Nascere L'imprenditore Non ha Nessuna Nessun Interesse A che L'azione Venga Promossa In termini Di Comicità Negativa Anche Perché Se Qua L'azione Vi Raccolta Spesso C'è Anche La Pubblicazione La Sentenza Sui giornali E Dunque L'imprenditore A mio Amiso Per Del Tutto Per Iniziativa Inibitorio E Questa Forse È Una Ragione Per Cui L'imprenditore Non ha Avuto Nelle Aule Dei Tribunali Quella Ligazione Che Ci Si Aspettando Ma Comunque Rimane L'imprenditore